Nome. Maurizio Minghella. Soprannome. Il mostro di Torino. Numero vittime. 10. Moda soperendi. Stupro, aggressioni, strangolamento. Maurizio Minghella nasce a Genova nel 1958. Quando a sei anni la madre si separa dal marito e inizia a crescere da sola cinque figli, compreso Maurizio. In seguito la madre si lega ad un nuovo compagno che picchia tutta la famiglia. Minghella comincia a covare un odio profondo per il convivente della madre. Frequenta la scuola senza riuscire a superare la seconda elementare, e a 12 anni frequenta ancora la prima. A scuola prende i compagni per il collo e tappa loro il naso o la bocca. Lasciata la scuola si trova a fare piccoli lavoretti tra cui il piastrellista mentre si dedica a furti di autoveicoli. Era anche un donnaiolo. Veniva spesso visto girare con molte ragazze. Si appassiona al pugilato, ma poi viene cacciato dopo aver picchiato un ragazzo. Un episodio che avrà poi forti repercussioni sulla sua psiche è la morte del fratello, schiantatosi in moto. Da questo episodio Minghella comincerà a sviluppare una morbosa attrazione per i morti, specialmente di giovane età. Riformato dal servizio di leva per disturbi psichici, sposa nel 1977, per scommessa, per caso, come lui stesso dichiarò, la quindicenne Rosa Manfredi, dipendente dagli psicofarmaci. Il matrimonio ha comunque vita breve, Minghella è un assiduo frequentatore di prostitute, e la ragazza muore in seguito ad una overdose da farmaci in un momento di depressione dopo un aborto sp. Ontaneo. L'aborto spontaneo traumatizza ulteriormente il Minghella e la sua fragile personalità. 18 aprile 1978, uccide a Genova la prostituta ventenne Anna Pagano, nascondendone poi il cadavere. Il cadavere è ritrovato da alcuni pastori, ha la testa fracassata ed è stata seviziata con una penna a sfera conficcata nell'ano. 8 luglio, uccide Giuseppina Gerardi a Genova con le stesse modalità e nasconde il cadavere in un'auto rubata e abbandonata. Il 18 luglio uccide Maria Catena Alba, 14 anni, che viene trovata nuda il giorno successivo. Il corpo legato con una specie di garrota ad un albero. Il 22 agosto, dopo una notte in discoteca, uccide Maria Strambelli di 21 anni, commessa di origine barese, il cui corpo viene trovato a tre giorni dalla scomparsa nella periferia di Genova. Un'altra vittima è Vanda Scerra di 19 anni, amica di Maria Strambelli e scomparsa il 28 novembre. La vittima è stata violentata e strangolata. Minghella viene arrestato e la notte tra il 5 e il 6 dicembre 1978 confessa l'uccisione della Strambelli e della Scerra, ma nega le responsabilità degli altri omicidi. Il 3 aprile 1981 viene condannato dalla Corte d'Assese di Genova all'ergastolo per i omicidi da scontare presso il carcere di massima sicurezza di Porto Azzurro. Ma nel 1995, a 37 anni, ottiene la semilibertà e viene trasferito al carcere delle Vallette di Torino. Entra nella comunità di recupero di Don Ciotti dove lavora come falegname dalle 17 alle 22. La semilibertà risulterà un grave errore. La furia omicida del mostro non si era ancora fermata. Nel marzo 1997 uccide la prostituta Loredana Maccario di 53 anni in casa della donna. A maggio strangola con il laccio di una tutta da ginnastica la prostituita marocchina di 27 anni Fatima Adiu dopo averla picchiata e violentata. Il 14 febbraio 1998 a Rivoli, nel Torinese, strangola con una sciarpa la prostituta albanese Floreta Islami, di 29 anni. Il 30 gennaio 1999 strangola con un fular la prostituta originaria di Taranto di 67 anni Cosima Guido, detta Gina, nell'appartamento dove riceveva i clienti, in centro Torino. La donna è stata stuprata prima di essere uccisa. Florentina Motoc, 27 anni, madre di un bambino di due, viene uccisa nella notte tra il 16 e il 17 febbraio 2001. Percossa brutalmente al volto e al capo, Minghella ha poi cercato di sbarazzarsi dei vestiti della ragazza accendendo un piccolo falò. È l'ultimo omicidio di Minghella, le tracce di DNA, impronte complete o parziali ritrovate nei luoghi dei delitti, le modalità simili degli omicidi e la fascia oraria in cui sono avvenuti, ovvero tutti dopo le 17, portano la polizia ad arrestarlo. Minghella viene arrestato il 7 marzo 2001 e a casa sua vengono trovati i cellulari delle vittime con il numero di matricola cancellato. Condotto nel carcere delle Vallette, nella primavera 2001 tenta di evadere fuggendo dalla lavanderia, ma riesce ad arrivare solo al primo muro di cinta. Rinchiusso nel carcere di Biella, la mattina del 2 gennaio 2003 si fa ricoverare per dolori al petto e al braccio nel pronto soccorso del capoluogo, riuscendo a fuggire da un bagno dello stesso. Viene arrestato alle 22 dello stesso giorno nei pressi della stazione ferroviaria. Sospettato di 10 omicidi di prostitute, ma condannato solo per 4 di essi, il 4 aprile 2003 viene condannato dalla Corte d'Assise di Torino al carcere a vita. Al momento è rinchiuso nel carcere di Pavia.